Quante cose si possono fare in vacanza in riva al mare? Puoi farti una bella vogata col tuo sub, oppure leggere un bel giallo, oppure darti all'enigmistica. Ma se sei in cornovaglia e piove tutta la settimana, beh, puoi solo darti all'enigmistica. A meno che tu non sia Colin Dexter, il papà dell'ispettore Morse, che era appassionato di enigmistica. Ma durante una settimana piovosa in cornovaglia, decise di rimediare alla noia scrivendo quello che sarebbe diventato il primo romanzo con protagonista l'ispettore Indibur Morse. Oggi Sellerio pubblica una raccolta di racconti con protagonista l'ispettore Morse e il sergente Lewis e tutta la variopinta criminalità con cui si deve confrontare giorno dopo giorno l'ispettore, il sergente e tutto il corpo della Keynes Valley Police. E così noi, dopo che abbiamo fatto il bagno oppure che abbiamo fatto una bella vogata sul nostro sub, possiamo dedicarci al nostro passatempo preferito, leggere un bel giallo. Buona lettura! Grazie a tutti!